E così adesso è acceso. E io ho lasciato così. Adesso non toccare più niente. Ma non ho mica toccato. No, se tocchi qui di fianco qualsiasi cosa si spegne, capito? Per quello che tu devi tenere in mano qua. Così. Così, non toccare niente. Non hai toccato. Niente, sta andando. Sì, sicura? Sì, sicura. Su, finché c'è la luzina che fa zig, 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 zig. Aggiungi. Aggiungi. Non toccati. Se non tocchi niente, puoi faremo... Io potrei anche parlare, se non volete, gete il cordio. Forze che, può, raccontarvi, ricorda il cordio. Poi, per caso me dovesse ricordare, insomma, avreste dopo delle consapevolezze che non vi farebbero stare meglio, quindi io non ve le raccolte, è stato il processo, che nel consenso questo processo dovrebbe essere meglio. Sì, se deteniamo l'uno, se deteniamo per noi, perché la vita è lo stupido. Se non è lo stupido, se non è lo stupido, cosa è lo stupido, è veronica della vita. E questo è progresso.